Ciao amici. Benvenuti nel mio canale. Sono di nuovo qui con un bellissimo video. Tagba Buyukustun ha risposto per la prima volta alla calunnia contro Engina Kurek. Mi fido di lui. Tuba Buyukustun ha rotto il silenzio di fronte alle accuse che recentemente hanno scosso il mondo della rivista. La prima dichiarazione dell'attrice riguardo alle diffamazioni contro Engina Kurek, da tempo conosciuto come suo caro amico, ha attirato grande attenzione da parte di un fan della serie. Media. Tuba Buyukustun ha attirato l'attenzione su questo problema con il suo post emozionante sul suo account sui social media. Il famoso attore ha parlato e ha detto quanto segue. Mi fido di lui. Con le sue parole ha fatto una dichiarazione sorprendente. Abbi fiducia nella calunnia gettata nel cuore. Questa affermazione ha avuto un ampio impatto sia nel mondo delle riviste che sui social media. Se da un lato questa affermazione dell'attrice esprime chiaramente la sua fiducia in Engina Kurek, dall'altro sottolinea anche l'amicizia e la collaborazione di lunga data con lui. Tuba Buyukustun, pur rivelando la sua posizione contro la calunnia e i pettegolezzi, ha anche sottolineato l'importanza dell'amicizia e della fiducia e ha affermato che AK era con il cuore in questo difficile processo. Questo fatto ha attirato l'attenzione dei media intransigenti e l'ampio fronte ha preso piede. Il punto in cui la posizione onesta e determinata di Buyukustun ha guadagnato l'apprezzamento dei media e dei suoi fan è anche il punto in cui Engina Kurek ha dimostrato ancora una volta l'amicizia tra loro rispondendo con messaggi di ringraziamento a Tuba Buyukustun. Ha portato a nuove speculazioni l'entità del rapporto tra i due giocatori, che è diventato motivo di curiosità nel mondo delle riviste perché fosse profondo e quali fossero i motivi di questa confessione. Le risposte a queste domande saranno chiare con gli eventi dei prossimi giorni. Così, la forte presa di posizione di Tuba Buyukustun contro le confessioni di Engina Kurek ha lasciato il segno nell'agenda della rivista e ci ha ricordato ancora una volta l'importanza della recitazione e dell'amicizia. Cari spettatori, vorrei ringraziare tutti voi per aver guardato il mio video. Arrivederci, ci vediamo nei nuovi video.